La nostra determinazione è quella di allentare il prima possibile le misure per tutte le attività produttive per poter far ripartire quanto prima in condizioni di sicurezza il motore del nostro Paese a pieno regime. Non siamo però ancora in quella condizione di poter ripartire a pieno regime. Dobbiamo quindi attendere ancora quello che vi possiamo promettere, che vi posso promettere e che se anche prima del 3 maggio si verificassero le condizioni alla luce ovviamente delle raccomandazioni dei nostri esperti e dei nostri scienziati cercheremo ovviamente di provvedere di conseguenza.